le sensazioni super positive sono arrivato poco fa mi sono allenato ho trovato un gruppo concentrato unito e sono super felice di essere qui non vedo l'ora di iniziare a giocare sono carichissimo un'occasione importantissima per me perché mi permette di far vedere il mio valore dopo una prima parte che non ho giocato tantissimo e sono davvero contento di essere in questa nuova città in questa nuova squadra e voglio voglio far bene voglio arrivare a giocare più partite possibile vediamo iniziando da sabato sono molto felice di trovare il mister ho passato l'anno scorso una stagione molto positiva con lui è stato anche importante per la mia scelta quella di ritrovarlo e oggi ho parlato parlato prima di arrivare sono molto contento io sono un terzino offensivo mi piace attaccare e far la fascia su e giù quindi spero di dare un grosso contributo alla squadra e dimostrarlo ma ci credo fino in fondo ci credo al massimo sono davvero fiducioso la squadra l'ho vista concentrata è un gruppo unito e quindi ci vuole tanta fiducia nei propri mezzi e cercare di fare al massimo tutte le cose che il mister ci chiede visto un sacco di video della della curva sud sono capitati su internet sui vari social e una spinta così possono far bene alla squadra quindi non vedo l'ora di giocare all'orecchi di correre sotto la curva e nulla un saluto a tutti i tifosi della salinitana e ci vediamo presto